È stata elaborata da Soroptimist e verrà presentata il 10 marzo all'auditorium della Fondazione di Piacenza e vigevano la nuova app in soccorso alle donne vittime di violenza. L'app si chiama App SHAO, SHAO è l'acronimo per Soroptimist Help Application for Women e quindi un'applicazione per le donne e per le donne di Piacenza sperando che non abbiano bisogno tanto di accesso ai numeri di emergenza quanto di informazioni. Ci sono informazioni di tipo legale sulle ultimi sviluppi della legislazione a favore della donna. Ci sono informazioni sui centri antiviolenza che sono stati istituiti e promossi a livello nazionale e a livello locale. Quindi trovano informazioni di vario genere oltre alla possibilità di accedere direttamente ai numeri di emergenza in caso di temuto pericolo. L'app verrà poi presentata anche all'Università Cattolica il 14 marzo e il 4 aprile. Sempre da Soroptimist è organizzata anche la proiezione del film a solo in programma il 15 marzo al Cinema Corso per supportare il mantenimento agli studi di una giovane donna piacentina. Grazie a tutti.